La Fratelli d'Italia innanzitutto ha composto una lista coerentemente con le aspettative del territorio mettendo tutte persone che hanno avuto un ruolo in Liguria di amministratori pubblici, amministratori comunali, provinciali e regionali come nel mio caso. Vogliamo portare a Roma i temi che difendono la nostra terra, i nostri cittadini e soprattutto la nostra economia. Quindi i temi di Fratelli d'Italia come quelli del centro-destra saranno la difesa delle nostre aziende, la difesa del nostro litorale, la difesa del nostro entroterra partendo dal tema famoso della Bolkestein arrivare al tema dell'immigrazione e dello sviluppo economico e anche quello della viabilità che vede un po' la Liguria, soprattutto il ponente della Liguria, un po' così ai margini della raggiungibilità. Quindi questi sono un po' i temi, i temi che penso stiano a cuore a tutti i Liguri, a tutti i Liguri di Ponente soprattutto e possono vedere in noi dei difensori convinti di quelli che sono gli interessi legittimi della nostra terra. Sì, mi ho deciso di candidarmi, mi hanno proposto la candidatura e ho accettato perché voglio dare una rappresentanza seria, concreta, radicata nel territorio della provincia d'Imperia per portare alla voce della provincia d'Imperia in Parlamento. Credo ci sia necessità di avere una persona che conosca molto bene i meccanismi della vita amministrativa ma che sappia anche con forza rivendicare più attenzione a un territorio troppo spesso dimenticato. Ci sono tanti problemi irrisolti, pensiamo all'immigrazione a Ventimiglia, alla zona franco-urbana che non è ancora stata sbloccata nonostante le promesse, all'entroterra con dei fondi europei che possono essere sinergici e dare un po' di vita a questi piccoli comuni che soffrono, il nodo infrastrutturale in realtà abbandonata sia per andare verso il Piemonte, i problemi dei lavoratori frontalieri. Insomma ci sono tante tematiche in provincia d'Imperia di carattere nazionale ed è giusto che ci sia un imperiese finalmente che possa affrontarle e con determinazione portarle avanti.